Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono Sadots e ho ricambiato nome ora mi chiamo Sadots però mi cambierò per sempre così oggi si è almeno un nuovo video di Minecraft e ora oggi inizierò una serie che poi andrà avanti con un mio amico e ora cambio joystick quindi secondo me ok come non detta non me lo fa fare però ho un villaggio quindi mettiamo bene questa serie no no stammi lontano chi se li ricordava questi mob ok questa è la vanilla di prima in cui non parlavo è finita molto male dove sono morto ho perso tutta ho trovato una grotta piena di minerali però non l'ho pubblicato però non l'ho pubblicato e sono morto quindi sapete perché non la porto più non l'ho pubblicato non l'ho pubblicato solo una persona sa perché mi chiamo Sadots in questo scusate un po' per la voce ma è un po' tardi in questo registrando e poi ho un po di mal di gola odio un gatto quanto lo vorrei che lo porto indietro...quanti gatti aspetta tu mi piaci non ti voglio picchiare però ti vorrà salvare poi spacco quelle le voglio prendere venite villagers ho un letto però io devo farmi una grafiting questo lascerò un libro per la persona in cui farà parte questa serie io lo scriverò non è vero non lo scrivo ok scusate per il sottofondo che sto guardando il talent della finale mi prenderò magari una di queste case e me la cambio perché non sono un grande amante della costruzione però...cioè forse costruisco quindi vorrei finire con il sapete che riesco a costruire anche una cosa...c'è una casetta allora...questo lo mettiamo qui...poi questo lo mettiamo qui...poi questo lo mettiamo qui...poi questo lo mettiamo... ora vengo anch'io...ora arrivo...ok... ok 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 ci facciamo le buste ora anch'io ci facciamo un bellissimo bucconi in pietra aspettate prendiamone di più ho sbagliato questa cosa perché sappiamo questa cosa mi faccio questo piccone in pietra prendo queste cose e ci vediamo in un prossimo video ciao